Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, rieccoci ben ritrovati. A Catania la polizia ha tratto in arresto un uomo per aver aggredito, prendendola a schiaffi la convivente incinta. Vediamo il servizio. La polizia di Stato di Catania ha tratto in arresto un uomo colto nella flagranza del reato di maltrattamenti contro la propria convivente. Gli agenti delle volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, su segnalazione della locale sala operativa, sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto da parte di una donna che riferiva agli operatori del 112 di essere stata aggredita dal proprio compagno. Immediatamente inviati e giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato la 32enne in stato di gravidanza ancora in contatto telefonico con la sala operativa. La donna ha raccontato di essere stata aggredita dall'uomo con problemi di tossicodipendenza che era andato in escandescenza colpendola al volto con degli schiaffi. Il 44enne, che si trovava ancora sul posto, alla vista dei poliziotti ha tentato di darsi alla fuga ma è stato tempestivamente fermato. Dopo aver allertato i sanitari del 118 e aver raccolto tutte le informazioni utili, la donna è stata trasportata presso l'ospedale Cannizzaro, dove è stata sottoposta ad accertamenti diagnostici con prognosi di 22 giorni. Alla luce di quanto accaduto, l'uomo è stato tratto in arresto e al termine delle formalità di rito, intesa con il PM di turno, è stato accompagnato presso le Camere di Sicurezza della Questura a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza direttissima. Un episodio simile è avvenuto a Roccapalumma, nel Palermitano. Anche qui un uomo violento è stato arrestato. I carabinieri della compagnia di Lercara Friddi hanno tratto in arresto un 46enne, già noto alle forze dell'ordine, per maltrattamenti in famiglia perpetrati contro la propria compagna convivente in stato di gravidanza. A far scaturire il provvedimento è stata la richiesta di aiuto della donna alla centrale operativa, il cui operatore, sentendo le urla e la voce affannata della malcapitata, ha inviato d'urgenza una gazzella dei carabinieri e personale sanitario. I militari dell'arma hanno fornito quindi il primo intervento, soccorrendo la donna che è stata trasportata, viste le condizioni gestazionali, al pronto soccorso di Termini Merese, dove sono state scongiurate conseguenze negative per il nascituro. Al contempo, personale della stazione Carabinieri ha ricostruito l'accaduto ripercorrendo le varie fasi dell'aggressione e raccogliendo elementi utili per provare l'abitualità dei comportamenti violenti dell'uomo. Alla luce di ciò, i militari hanno attivato la procedura prevista dal cosiddetto Codice Rosso contro la violenza di genere, informando subito l'autorità giudiziaria che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari dell'aggressore in un luogo diverso dall'abitazione coniugale. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Enna, parliamo dei controlli effettuati dalla Guardia di Finanza. sono stati sequestrati oltre 18.000 prodotti ritenuti non sicuri, tra questi anche molti addobbi natalizi. Nel corso dei controlli straordinari attivati dal Comando Provinciale di Enna, le autorità hanno proceduto al sequestro di oltre 19.000 prodotti non sicuri, compresi oggetti decorativi e addobbi natalizi. I manufatti in questione, privi di etichette o non conformi al Codice del Consumo, rappresentano una minaccia alla salute e alla sicurezza dei consumatori. L'operazione, inserita in un più ampio piano di vigilanza in occasione delle festività natalizie, è stata condotta dalle fiamme gialle del gruppo di Enna. Durante il controllo di un importante esercizio commerciale del capoluogo, sono state individuate centinaia di confezioni contenenti prodotti e addobbi natalizi messi in vendita senza le necessarie etichette in lingua italiana. Tali mancanze riguardavano informazioni cruciali sulla sicurezza dei materiali e componenti, nonché sull'origine della filiera commerciale. In conformità con il Codice del Consumo, che sottolinea i diritti fondamentali dei consumatori, tra cui la tutela della salute, della sicurezza e della qualità dei prodotti e dei servizi, l'informazione adeguata, il diritto di recesso e la corretta pubblicità commerciale, le autorità hanno effettuato azioni legali contro i responsabili. Attualmente sono in corso approfonditi accertamenti per risalire alla filiera di distribuzione e identificare i produttori che hanno eluso le regole di immissione in commercio. Nel frattempo, il titolare dell'esercizio commerciale sottoposto a controllo è stato segnalato agli organi amministrativi competenti per l'applicazione delle sanzioni previste con un massimo di 25.823 euro. Violazione delle prescrizioni e maltrattamenti in famiglia. La Polizia ha eseguito due ordinanze tra Caltanissetta e Gela. La squadra mobile ha dato esecuzione a un'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta a carico di un trentenne nisseno con la quale è stata disposta la provvisoria sospensione della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali e l'accompagnamento in istituto penitenziario per inosservanza delle prescrizioni imposte dalla misura alternativa alla detenzione. Analogamente, il commissariato di pubblica sicurezza di Gela ha dato esecuzione a un'ordinanza di sostituzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento con quella degli arresti domiciliari emessa dal GIP presso il Tribunale di Gela nei confronti di un quarantenne residente proprio a Gela indagato per maltrattamenti in famiglia. Un giovane di Vittoria nel Ragusano è stato fermato e condotto in carcere dai carabinieri e infatti accusato di tentato omicidio. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. Nei giorni scorsi, nei pressi dell'Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII Colonna nel comune di Vittoria, un giovane vittoriese a seguito di un diverbio per futili motivi con un altro giovane del posto lo ha aggredito estraendo un coltello e colpendolo più volte agli arti e al torace. I militari della locale stazione, unitamente a personale del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vittoria dopo aver prestato soccorso alla vittima trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale Guzzardi si sono recati sul luogo dell'aggressione acquisendo ogni elemento investigativo utile all'identificazione dell'aggressore. I Carabinieri hanno dato così impulso a un'articolata attività di indagine consistita nell'escussione dei testimoni presenti ai fatti e all'analisi delle telecamere di videosorveglianza. Estrapolata dai filmati l'immagine dell'aggressore i Carabinieri hanno effettuato accertamenti riuscendo a risalire alla sua identità per poi attivare immediatamente le ricerche in tutti i luoghi di interesse frequentati dal soggetto. L'aggressore è stato individuato nel comune di Vittoria e dai primi accertamenti è emerso che lo stesso indossava alcuni capi di abbigliamento utilizzati durante l'evento delittuoso ovvero corrispondenti a quelli osservati nei filmati acquisiti e macchiati da evidenti tracce ematiche verosimilmente riconducibili alla vittima. Il quadro indiziario e gli elementi investigativi raccolti dai Carabinieri hanno permesso di definire la responsabilità del giovane per il tentato omicidio rendendo così necessaria l'esecuzione del fermo d'indiziato di delitto nei suoi confronti. I Carabinieri terminati gli atti di rito hanno dapprima sottoposto a sequestro i capi di abbigliamento macchiati di sangue e poi tradotto l'aggressore presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Proseguono i controlli della polizia a Catania nei quartieri cittadini in questo caso nel quartiere di San Berillo Vecchio. Prosegue l'attenzione della polizia di Stato su uno dei quartieri del centro storico di Catania nell'ambito delle attività di controllo del territorio finalizzate a contrastare e prevenire la criminalità diffusa e ogni forma di illegalità nei quartieri cittadini la polizia ha infatti eseguito mirati servizi nel quartiere di San Berillo Vecchio. Gli agenti del commissariato centrale che insiste proprio in quella zona con il supporto degli operatori del reparto prevenzione crimine Sicilia Orientale delle unità cinofile della Questura di unità della squadra a cavallo e delle pattuglie della polizia locale hanno effettuato una capillare attività di monitoraggio all'interno del quartiere con posti di controllo nei punti nevralgici finalizzati all'identificazione di persone e al monitoraggio dei veicoli fornendo una cornice di sicurezza all'operato del personale del commissariato della pattuglia a cavallo che ha effettuato un pattugliamento di tutte le vie interne al rione e delle unità cinofile impegnate nella ricerca di sostanze stupefacenti occultate in anfratti murari tipica modalità di spaccio finora registrata. In piazza Spirito Santo è stato individuato e sanzionato un parcheggiatore molesto originario del Sudan colto sul fatto dagli agenti mentre infastidiva gli automobilisti con pressanti richieste di denaro complessivamente nel corso del servizio sono state identificate 128 persone controllati 53 veicoli ed elevate 22 sanzioni per violazioni al codice della strada in particolare per guida senza casco mancanza di copertura assicurativa e per divieto di sosta un'automobilista è stato trovato alla guida sprovvisto di patente sono stati sequestrati due veicoli mentre uno è stato sottoposto a fermo amministrativo sono state inoltre controllate 15 persone sottoposte agli arresti domiciliari o a misure di prevenzione due di esse sono state deferite all'autorità giudiziaria perché non trovate in casa al momento del controllo particolare attenzione è stata data anche ai controlli delle attività commerciali sono stati controllati sei esercizi pubblici due dei quali sono stati sanzionati amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico restiamo a Catania dove è stato inaugurato l'ufficio postale presso la stazione centrale Lucio Di Mauro è stato inaugurato l'ufficio postale di Catania 1 nella sua nuova sede in piazza Papa Giovanni XXIII all'interno della stazione centrale del capoluogo Etteneo alla presenza del sindaco di Catania Enrico Trantino e dei rappresentanti di poste italiane oltre 400 metri quadrati dedicati sei postazioni tre sale consulenze e un ATM postamat operativo H24 sicuramente un grande obiettivo per quanto riguarda i posti italiani l'apertura di questo ufficio postale il primo in Sicilia all'interno di una stazione centrale Sì, siamo assolutamente fortemente orgogliosi riapre l'ufficio postale di Catania 1 per la prima volta in Sicilia all'interno delle ferrovie collocato in un quartiere fortemente popoloso che per valorizzare il territorio appunto all'interno del comune di Catania una caratteristica molto importante di questo ufficio risiede nel fatto che sono stati creati anche due ambienti uno per il servizio allo sportello dei cittadini e anche una presenza di sale consulenze e con una privacy particolare collocate separatamente dal normale servizio dello sportello Come si presenta questo ufficio a livello tecnologico? È altamente moderno è assolutamente in linea con quello che è il piano industriale dell'azienda presenta anche un angolo un punto poste casa e famiglia che serve proprio a aiutare le famiglie giornalmente La scelta di farlo nascere all'interno o comunque accanto a una stazione centrale come è stata studiata? Proprio perché le ferrovie di Catania si trovano al centro uno dei quartieri più importanti di Catania quindi molto vicini al centro storico quindi anche per i turisti ma soprattutto perché è il quartiere più popoloso di Catania Non è un caso che sia io qui a salutare questa inaugurazione a salutare questa apertura perché diventa un momento di cucitura fra il nostro mondo della produzione lavorativa il nostro mondo della clientela che in qualche modo si unisce per ottenere una posizione particolare in cui non c'è solo il flusso di passeggeri che va e viene dalla stazione ma c'è anche un servizio della Caritas qua vicino quindi mi piace questa integrazione sociale che diventa poi un elemento di inclusione che non viene solamente predicato ma viene poi praticato in concreto quindi io ringrazio Posti Italiani per la sensibilità che ha avuto nell'individuare questa soluzione come punto in cui aprire questo nuovo ufficio ci saranno anche servizi bancari 15 dipendenti e quindi è un bel momento per la città nel solco di quella rinascita che desideriamo venga alimentata ogni giorno di più da buone prassi proprio come questa e sempre a Catania è stato presentato il programma della festa di Sant'Agata 2024 per noi c'era Lucio Di Mauro presentato il programma della festa di Sant'Agata 2024 presenti l'arcivescovo di Catania Sua Eccellenza Monsignor Luigi Renna il sindaco di Catania Enrico Trantino il parroco della Basilica Cattedrale Monsignor Barbaro Scionti e il presidente del comitato per la festa di Sant'Agata Carmelo Grasso il tema delle celebrazioni 2024 sarà Sant'Agata e la luce del martirio nel nostro tempo con un programma che prevede una prima parte essenzialmente pastorale che riguarda il cammino insieme verso la festa con celebrazioni, catechesi e testimonianze ci sarà una particolare attenzione al tema della legalità è in tal senso annunciato l'arcivescovo la sua intenzione di rivedere lo statuto delle associazioni agatine all'indomani della festa infatti vorrà rivedere gli statuti sarà molto importante che l'adesione alle associazioni sia fatta da uomini e donne che si trovino nelle condizioni di essere dei devoti e non hanno conti in sospeso con la giustizia la festa richiama il tema della luce perché il martirio è luce in un momento di buio nel quale l'uomo è portato a fare dei compromessi e crea attorno a sé una spessa coltre di tenebre compromessi con il male compromessi con il peccato la luce del martirio ci illumina ancora oggi nei martiri anche del nostro tempo per cui non dobbiamo pensare che questa esperienza vissuta da Agata appartenga al passato appartiene anche al presente e sarà bello accostare alla sua santità quella del beato Pino Puglisi il cui trentennale dalla morte ricorre proprio in questo 2023 come il Papa ci ha ricordato in una lettera la revisione degli statuti semplicemente perché l'esperienza ci porta a rivedere alcuni aspetti e a far sì che l'appartenenza alle associazioni sia sempre un'appartenenza di fede non semplicemente formale e che chi appartiene porti veramente la medaglia che non è qualcosa di esterore ma la medaglia della trasparenza la medaglia del non avere nulla in sospeso con la giustizia questo l'ho sottolineato la medaglia di una bella testimonianza cristiana il sacco deve essere bianco non solo perché è uscito da una lavatrice ma deve essere bianco perché la persona che lo porta si sforza perlomeno di essere coerente con la sua fede e con la sua devozione straordinaria decisione del sindaco Trantino che rinuncerà a salire sulla carrozza del Senato perché il primo cittadino sia uguale a tutti gli altri anche in questo momento di condivisione civica non vuole essere un segno di rottura col passato oppure un moto rivoluzionario è semplicemente un modo per far comprendere alla città quel che abbiamo sempre detto e c'è a dire che le istituzioni sarebbero state accanto ai cittadini perché il vero problema di questa città è che troppe distanze ha consentito di consolidare fra la città e chi è che governa la città per questo ho ritenuto di non salire sulla carrozza del Senato per presentarmi dietro di essa allo stesso piano stradale dei cittadini e far salire al posto mio tre ragazzi di scuola media che vinceranno un concorso sulla Catania che sarà valutazione compiuta rigorosamente dai dirigenti scolastici e dai docenti universitari proprio per dare questa diversa impronta alla città che stiamo immaginando da un lato le istituzioni che camminano sullo stesso asse stradale in cui si trovano i cittadini e i devoti dall'altro il nostro futuro che si trova sulla carrozza del Senato è tutto, possiamo chiudere questo appuntamento con Spazio Notizia a tutti